Tutti gli anni in aprile avveniva l'insediamento dei nuovi assunti nei vari quadri della Megaditta. Erano frutto di una spietata selezione a base di raccomandazioni, minacce, ricatti ed eliminazione fisica di potenziali concorrenti. E se? Brutti chef di mixtape, volume 2, fanno, ai suoni, sotto a scala ufficio sinistri, lei dice padroni e io dato l'unico, ma no, 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 no. Il generale naturale sia può cominciare il tirassegno, la scala scende solo e la sola è parte del congegno, ogni passo il gradino prima frana, ogni passo un inchino davanti alla poltrona in pelle umana. Giorni geli di zii, notti glaciali, perzotti fanno i prezzi con pezzali, poi tirano sul prezzo al mercato degli squali e tu solo, albazzi contro i vettici aziendali. Profitti garantiti, pronti per la corsa dei falliti, la coppa copron per nuovi impiegati convertiti. Oggi che paga l'eliminazione di un'incoscienza, chi si oppone, così ci sonnizza la mente, tu, non sa c'è meglio che lì c'è la tua faccia, merdaccia, sei tu la sola preda in questa caccia che ti piaccia o no. È così che va, per ogni sì, dieci no, e devi pure ringraziare sua maestà per il rancio, rancido, beccati sto gancio, rancio, davimo e scommetto sul destino che è il mestiere in cui cecati, vadi a timbrare il cartellino raccioniere, vadi. E scapoli contro ammogliati, è la guerra dei poveri Cristi, è la crisi nelle fabbriche di artisti, percangelo Gabriele sopra la traversa, segnala che è la fine, ma io non voglio sputo rime, sotto scala ufficio sinistri.